Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Prende forma il governo regionale in Sicilia, procedono infatti le interlocuzioni portate avanti dal presidente della regione Renato Schifani. Il governatore sta lavorando in attesa che il Parlamento siciliano domani completi il suo insediamento ed elega il successore di Gianfranco Micci che come presidente dell'Ars probabilmente sarà Gaetano Galvagno, Marco Falcone, Edita Maio, Luca San Martino, Vincenzo Figuccia, Roberto Di Mauro, Nucci Albano, Giussi Saverino, i possibili assessori. Una vasta operazione della DIA è in corso a Roma e provincia, nel Lazio e anche in Sicilia, in provincia di Agrigento. La DIA è al lavoro per dare esecuzione a misure cautelari nei confronti di 26 persone. Sono tutte indiziate di far parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso capace di costituire una cosiddetta cellula d'andranchetta radicata sul territorio della capitale finalizzata ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche. Un intero quartiere prigioniero di un procedimento giudiziario lumaca per decidere del futuro dell'edificio abbandonato di via Cronato a Catania. Si aspetta forse il suo crollo? E la domanda che pone il comitato Romolo Murri attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, l'ennesimo immobile abbandonato che poteva essere valorizzato ed è finito nel dimenticatoio. Parliamo di un immobile che andrebbe abbattuto il prima possibile per il bene e la sicurezza di tutti. Un incendio è divampato in alcuni magazzini in un palazzo in via Alodato a Palermo vicino all'ospedale civico. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la struttura e gli immobili vicini scongiurando il peggio. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.